Sono sicuro che non lo sai che con il tuo drone DJI Mini 4 Pro, Air 3, Air 3S oppure anche Mavic 3 puoi realizzare delle missioni che puoi riguardarti prima di andare a eseguirle sul programma Google Earth Guardate che spettacolo, posso vedere tranquillamente se ci sono ostacoli e posso avere una panoramica incredibile dell'area dove andrò a volare ma non solo, posso anche condividere la mia missione con il mio committente chiedendogli ti va bene questa ripresa? Vuoi che facciamo un volo fatto così oppure preferisci modificare qualcosa? Ti spiego passo passo tutta la procedura che puoi fare tranquillamente anche te con il tuo pc di casa in questo video Prima come al solito vi chiedo un supporto al canale anche perché avere accesso a tutte queste informazioni non sempre è semplice io ci provo, ragazzi mi sforzo, però vi chiedo anche di farmi vedere la vostra riconoscenza se mi vuoi supportare, beh, un like, un'iscrizione al canale se mi vuoi supportare ancora di più, ci sono i miei riferimenti, qua sotto potresti abbonarti ci saranno tanti video sulla fotogrammetria, sull'uso professionale di questi droni iniziamo con la procedura per iniziare prendo subito il mio smartphone dove all'interno della DJI Fly App andrò a realizzare la mia missione a Y-Point sono nella DJI Fly, vado su guida alla connessione, vado a scegliere il mio Mini 4 Pro vado su visuale fotocamera e ho già la mappa di Google naturalmente occorre avere una connessione dati per avere la mappa di Google ma io ho la wifi a casa, sono qui apposta a preparare, a progettare la mia missione lo facciamo insieme e vi faccio vedere come puoi condividerla con Google Street View vado a scegliere la mia zona di volo che è una zona stupenda, ho scelto per fare questo tutorial questa zona qua ok, siamo a Livorno, facciamoci la nostra missione andiamo a impostare i nostri Y-Point lo facciamo cliccando qua su questa icona qua laterale vado a scegliere i miei Y-Point faccio un volo tutto attorno alla fortezza ok li giriamo proprio completamente attorno e andiamo poi a scegliere un punto di interesse un poi lo scegliamo qua, sulla torre principale andiamo a dire alla missione che vogliamo che tutti i punti vadano ad inquadrare il punto di interesse andiamo a dire anche l'altezza abbassiamola un po', mettiamola tipo a 20 metri ok, l'altezza sui 20 metri va bene e poi andiamo a salvare la nostra missione quindi vado qua e vado su salva il primo step è completato abbiamo realizzato la nostra missione sull'applicazione la possiamo editare la possiamo modificare a piacimento ma adesso noi dobbiamo esportarla dal telefonino al nostro PC ho qui il mio Mac come farlo? vi faccio vedere questa procedura con il mio iPhone ma se avete un sistema Android è semplice, è uguale basta che andate a individuare il file giusto vi faccio vedere come faccio con iPhone vado su File vado su iPhone vado su DJI Fly vado su Yline Mission questa è la directory dove ci sono tutte le missioni che ho creato e che ho salvato nella mia applicazione è facile individuare l'ultima missione perché vedo l'orario e quelle più recenti sono ordinate dall'alto verso il basso devo scegliere però facendo attenzione perché vedo questa missione con un elemento alle 16.21 l'altra con due elementi noi scegliamo quella con due elementi dove all'interno ci sarà il file KMZ questo è quello che noi dobbiamo individuare all'interno del nostro dispositivo e lo dobbiamo esportare sul nostro PC lo possiamo esportare via mail come vogliamo io utilizzo AirDrop perché ho Apple e questo sistema è quello più veloce quindi vado su Condividi vado su AirDrop e me la mando sul mio Mac a questo punto il gioco è fatto posiamo il nostro smartphone e andiamo a prendere il nostro computer sul computer vado su Lishi Utility vi lascerò il link in descrizione lo trovate facilmente basta digitare Lishi scritto LITKI Utilities qui ci sono tutta una serie di applicativi specifici e noi andiamo a sceglierci DJI Fly con la freccettina rivolta verso Lishi questa icona qua clicchiamo e andiamo in Browse andiamo a scegliere il nostro KMZ lo dobbiamo convertire e generare il CSV per poi poterlo successivamente importare su Mission Hub che è l'applicativo che serve appunto agli abbonati di Lishi per creare le missioni abbiamo fatto questa modifica di questo file che adesso possiamo tranquillamente importare dentro Mission Hub una volta fatta la conversione del file lo troviamo qua sempre in Download lo andiamo a importare in Mission Hub anche di Mission Hub vi lascerò il link in descrizione quindi vado su Import e vado a scegliere il file che ho convertito già qui posso modificare sia i white point ma anche il punto di interesse posso apportare modifiche e posso sempre rimportarlo dentro alla DJI Fly ma noi non perdiamo la strada il nostro obiettivo è di trasportare la missione creata qua con la DJI Fly e importarla e vederla soprattutto dentro Google Earth quindi procedendo oltre noi dobbiamo esportare esportare il file nel formato qua VLM prima di farlo occorre fare una precisazione e un'attenzione particolare occorre aver installato un'estensione su Google Chrome che si chiama Chrome Lishi Virtual Mission anche di questo vi lascerò il link qua sotto in descrizione lo scaricate facilmente e sul Chrome sul browser Chrome lo si attiva da solo una volta scaricato fatto questo un'altra attenzione particolare da fare è quella di andare nelle impostazioni quindi andiamo qua nelle impostazioni e andiamo a abilitare Use Online Elevation perché facciamo questo? perché il punto di elevazione che è stato impostato nella DJI Fly è un punto di elevazione locale quindi tiene conto soltanto del punto di decollo e dell'altezza richiesta nella missione noi invece in questo modo andremo a dire a tutto il pacchetto di file a che riferimento a che quota di riferimento devono far conto cioè devono tener conto di una quota di riferimento reale in questo caso viene utilizzata una quota tramite un sistema online quindi già referenziato lui capisce in che zona si trova e quindi tiene di conto dell'altezza giusta quindi impostato il flag qua in fondo corretto andiamo a esportare il file in VLM cioè questo qua in fondo andiamo su export ASVLM procediamo installando Google Earth se ancora non l'abbiamo sul nostro PC lo installiamo nella versione Earth Pro che è gratuita anche di questa vi lascerò il link in descrizione e installata l'applicazione andiamo a fare doppio clic sul file KML vedo che la missione è stata correttamente importata all'interno di Google Earth vedete se espandiamo 10 mission qua sotto abbiamo virtual mission e diagnostics non interessa virtual mission facciamo doppio clic e prepariamoci a vedere la magia ecco qua il nostro lavoro il nostro progetto di Ypoint la nostra missione realizzata che la possiamo condividere con il nostro committente ma non solo possiamo anche vedere se il drone va a sbattere su qualche edificio oppure su qualche ostacolo in questo modo ci facilita tantissimo se siamo dei professionisti e dobbiamo andare a fare un volo per capire soprattutto il risultato che avremo una volta effettuata questa missione lo possiamo vedere in anticipo in questo modo io devo dire che queste missioni con l'isci stanno diventando molto molto complete e molto molto interessanti ci saranno una serie di video sui droni sulla fotogrammetria su applicazioni pratiche per l'uso lavorativo di questi dispositivi quindi come ho detto vi invito a iscrivervi al canale io spero che questo video vi sia piaciuto anzi ne sono sicuro perché sono contenuti che non si trovano non si trovano facilmente o non si trovano proprio e quindi ragazzi vi auguro a tutti una buona serata ci vediamo con nuovi contenuti iscrivetevi ciao